Con queste idee ingegnose rendi la cucina più semplice. Troppo olio? Riusa il tappo apri e chiudi dell'acqua. Molto meglio! Per mantenere i frutti di bosco freschi più a lungo, separa ogni strato con un velo di carta assorbente. Poi chiudi e riponi in frigo. Questo è il metodo migliore per ripiegare lo strofinaccio. Bello e ordinato! Sai che l'alloro è un repellente naturale per gli insetti? Qualche foglia essiccata nei cassetti e nella credenza li terrà alla larga. Per fare il sottovuoto non hai bisogno della macchina. Bastano una cannuccia, una bottiglia di plastica e un asciugacapelli. Geniale! Quando non hai il cestino a portata di mano, la cucina può diventare un disastro. Un gaccio adesivo è la soluzione ai tuoi problemi. Comodo! Non aprire le patatine così. Se apri la busta in questo modo, è più facile condividerle. Un altro uso del pela patate che forse non conoscevi. Utile! Questo foro corrisponde esattamente a una porzione di spaghetti. Anche gli scarti possono tornare utili in cucina. Puoi riusare le bucce delle cipolle per conservare le carote più a lungo. Sul tagliere usa il limone invece dei detersivi. Sgrassa e pulisce a fondo. Sgrassa e pulisce a 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 pul